Il famoso regista, avete tre minuti, silenzio, franagoni, penalità, è attenzione, silenzio assoluto, tre minuti da adesso. Allora, Castelvani è oltre al famoso regista è anche un famoso personaggio che è stato coinvolto all'Italia, all'Italia, in particolar modo con delle atlete, di grande artifica. E quindi il nostro presidente, anche lui, sappiamo tutti che è un regista, ed è stato coinvolto, gli è stato promesso di contare Castelvani, però lui, preso dall'entusiasmo, non sapeva bene cosa sarebbe andato incontro, e perciò è stato rivolto in questa testa pubblicitaria ed è stato quindi addorbato. Quindi ha dovuto comunque in qualche modo fare conti sul beniamino e perciò ha deciso di vestirsi utilizzando anche dei gazzetti molto cari alle gizze, soprattutto il panino, e in questo modo chiederti di fare un terzo tempo per lui, ecco. Tutto, l'abbiamo preparato. L'abbiamo preparato. E lo stesso sono felici.